Sono 14.199 su un totale di 25.865 elettori i votanti che a Favara hanno imbucato la scheda rosa, quella per l'elezione dei candidati alla Camera dei Deputati. Il 54,89% degli elettori ha dunque espresso il proprio voto. Le schede valide sono state 13.339, 181 quelle bianche, 679 quelle nulle e nessuna è stata contestata. I dati sono definitivi e riguardano le 35 sezioni della città dell'Agnello Pasquale. Il candidato alla Camera più votato a Favara è stato Michele Sodano, al quale sono andate 5.645 preferenze, cioè il 42,31% dei voti validi. Alla sua lista collegata, quella del Movimento 5 Stelle, sono andati 5.504 voti, pari al 42,16% dei votanti favaresi. Calogero Pisano, candidato all'uninominale per il centrodestra di voti a Favara, ne ha ottenuti 4.465, il 33,47% del totale. Tra le liste a lui collegate, Forza Italia è stata votata 2.667 volte, il 20,42% dei voti complessivi. Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni ha ottenuto 683 preferenze, il 5,23%, la Lega 639 voti, il 4,89% e la lista noi con l'Italia Udc 415 voti, il 3,17%. A seguire il candidato del centrosinistra, Giuseppe Sodano, che è stato votato dal 16,02% dei votanti favaresi, pari a 2.137 voti. La lista collegata che ha ottenuto più preferenze è stata il PD, con i suoi 1.243 voti, il 9,52% del totale. A seguire la lista civica popolare Lorenzin, con 708 voti, cioè il 5,42%, più Europa con 86 voti, lo 0,65% e la lista Italia-Europa insieme, con 37 voti, lo 0,28%. Santa Guzzetta, detta bianca, Favara ha raccolto 420 voti, il 3,14% del totale. La sua lista, Liberi e Uguali, di preferenze, ne ha ottenute 407, il 3,11%. 416 voti e 3,11% per Giuseppina Di Cristina, detta Giussi. 414 preferenze per la lista collegata Potere a Popolo. Sergio Coniglio, candidato all'Uninominale per il Popolo della Famiglia, è stato votato 111 volte, lo 0,83% dei voti, mentre la lista 108 volte, pari allo 0,82%. Sempre a Favara, Emanuela Martorana e la lista Italia agli italiani hanno ottenuto 74 voti, lo 0,55% e 0,56% del totale. 0,45% e 61 voti per Fabrizio Roberto Suterasardo, candidato all'Uninominale della lista Casa Pound Italia, che di preferenze ne ha raccolte 60. Infine, Lillo Massimiliano Musso e la lista del Popolo per la Costituzione hanno ottenuto 10 voti, lo 0,07%. Come faccio ilominl颜 note Scenario 100%. 6,22% del Topolo per la costituzione